Nuova sede per la protezione civile di Vallo della Lucania. L'associazione sarà ospitata nei locali dell'ex scuola dell'infanzia e primaria di Angellara, conferita in comodato d'uso da parte dell'amministrazione comunale di Vallo della Lucania. La presente associazione, costituita da circa 150 unità, è legata al celebre gruppo lucano di protezione civile, il quale vanta una reputazione di rispetto a livello nazionale, grazie alle innumerevoli missioni di volontariato avvenute in Italia e all'estero, ad un numero di scritti pari e circa 5.000 unità spalmate sulle regioni meridionali. Negli ultimi anni i membri volontari hanno partecipato alle missioni nell'emergenza in Emilia Romagna, in seguito al terremoto del 2012, sul Pollino nel comune di Rotonda, sempre per il terremoto del 2012, a Sapri in seguito all'eluvione del 2012, oltre a molte altre iniziative. Alle 10 di sabato è previsto l'arrivo delle associazioni di volontariato del gruppo lucano, di quelle presenti sul territorio comunale, di tutte le istituzioni d'arma, della banda musicale della scuola Andrea Torre, dell'amministrazione comunale di Varo della Lucania, delle autorità locali ed ecclesiastiche e degli altri invitati. Seguirà alle 10.30 la cerimonia di inaugurazione, con benedizione da parte di Sua Eccellenza il Vescovo Ciro Miniero e il successivo taglio del nastro.